Allora, è importante la valutazione del paziente durante la fase di ricovero, perché abbiamo visto il preoperatorio, quindi soprattutto nella scelta della valutazione della terapia anticoagulante, adesso andiamo a vedere appunto la fase del ricovero. Innanzitutto devo fare la valutazione degli emocomponenti, perché posso fare una trasfusione programmata, oppure per sicurezza anche per pazienti anemici, posso fare una profilassi antibiotica, antitrombotica, la preparazione intestinale, la preparazione gastrica, quindi con l'utilizzo di cristeri o lassativi. Ricordando che pure gli interventi che possiamo andare a fare, di tipo chirurgico, sono puliti, quando non interessano l'apparato respiratorio, genitore urinario, gastrointestinale. Quelli puliti e contaminati che possono interessare viscericavi ma non ci sono delle infezioni in corso, quelli contaminati che sono caratterizzati per esempio dalla presenza di uno spandimento di contenuto gastrico, a livello addominale, oppure di bile o di urina infette, spesso associate a un difetto di tecnica chirurgica e poi quelli sporchi sono degli interventi secondari di un tramo in presenza di tessuto necrotico o corpi estranei. Spesso possono essere dovuti anche a delle incisioni chirurgiche in processi purulenti. Quindi partiamo dalla profilassi antibiotica, si può fare per via preventiva o per via terapeutica. Preventiva ad esempio quando dobbiamo fare gli interventi puliti o puliti di contaminati e antibiotica negli interventi contaminati o quelli sporchi. La terapia antibiotica consiste in particolare nella farmacia di prima, di seconda e di terza scelta. Di prima scelta come la cefazzolina o la moxicillina, di seconda scelta ad esempio il cefalosporine e di terza scelta la vancomicina. Negli interventi intestinali in realtà si può utilizzare anche il metronidazolo. Gli step sono in extra short term e in timing, quindi vuole dire in extra short term e in short term. Di solito quelli extra short term sono prima dell'intervento, si fa la somministrazione antibiotica in 30 minuti. Lo short term invece sono 30 minuti prima dell'intervento, poi fino a 5 giorni, finché comunque poi non si fa una somministrazione anche di antibiotici. Si può fare dopo l'intervento o per 5 giorni, a seconda anche del tipo di paziente, oppure fino a che non scompare magari l'infezione o dipende, dipende sempre da quello che accade dopo l'intervento. La profilassi invece è antitrombotica, si fa o di tipo farmacologica con le varine a basso peso molecolare o non farmacologica come le garze o la mobilizzazione. La preparazione invece può essere gastrica intestinale e igienica, quella gastrica viene fatta tramite il digiuno, di solito fino a mezzanotte e anche perché ovviamente l'intervento non può essere fatto a stomaco pieno. Qualora siamo un'urgenza invece, ovviamente il paziente ha mangiato, si fa un sondino nasocastrico per svuotare. Nella preparazione intestinale siamo di fronte ad interventi contaminati o sporchi. Spesso si possono fare dei glisteri evacuativi, soprattutto negli interventi intestinali o di procto-colectomia e negli interventi colonnorettali si fanno anche i sondini nasocastrici o anche antibiotici. La preparazione igienica invece si fa con la trigotomia e i lavaggi in soluzioni alcoliche. Il sondino nasocastrico si può applicare in reparto o in sala laboratoria, mentre le indicazioni sono soprattutto ad esempio per l'iriodinamico, l'occlusione, in anestesia generale, oppure per esempio per detendere lo stomaco per non coprire gli organi. Mentre i cateteri vescicali servono per svuotare, per esempio, la vescica durante una laprotomia dell'utero, oppure interventi lunghi per mantenere la diuresi e per la ritenzione urinaria post-intervento, spesso dopo un'anestesia. Poi abbiamo un ruolo importante anche nella gestione del paziente, è quello intraoperatorio. Di solito i motivi principali per cui si fa un controllo intraoperatorio è la sicurezza del paziente. Quindi nell'intraoperatorio spesso quello che dobbiamo fare è l'intervento in sé per sé, quindi bisogna avere delle accortezze ben precise, come viene posizionato il paziente, come è allineato, l'esposizione del sito chirurgico, il mantenimento di posizione, dove applicare la placca e delle elettrobistori, la piastra, delle calze antidrombo, le calze, gli aghi, gli strumenti, un ambiente asettico, una terapia infusionale, antibiotici, emotrasfusione e la gestione ovviamente delle risorse umane. Di solito abbiamo tra gli operatori principali, ci saranno il primo operatore che è il chirurgo, che deve tener conto, deve occuparsi del paziente soprattutto riguardo le sue funzioni cardiorespiratorie, in primis e non solo. L'anestesista collabora per il posizionamento del cavo o deve essere attento soprattutto agli occhi, cioè devono essere protetti e ovviamente deve valutare anche la perfetta delle vierie. L'infermiere invece segue le indicazioni. Inoltre dobbiamo valutare le posizioni. Qui ho fatto un po' degli esempi ma li riprendiamo comunque dopo. Allora abbiamo la posizione supina. La posizione supina praticamente si appare di questa qui, in cui il paziente è steso sul lettino. Quindi in questo caso una cosa importante è mettere i cuscini, qui diciamo ci ho messo i pari di tascalia, ma l'essenziale è sapere mettere i cuscini sotto al capo, poi mettere anche sotto le ginocchia, dietro al tendine d'Achille, e mettere una fascia sopra, supporto sulle cosce, per non far muovere il paziente, e se tengo il braccio aperto, per esempio per fare delle infusioni, non deve essere mai aperto oltre i 90 gradi, perché altrimenti si può fare una lesione del presso brachiale. Poi c'è la posizione di Tremdelenburg per gli interventi della pelvi, infatti ho degli anzi intestinali che vanno verso l'alto e solitamente si usano dei supporti sulla coscia e dei ferma spalle e dopo l'intervento il paziente deve essere messo in posizione normale. L'anti di Tremdelenburg è il contrario e solitamente il paziente deve avere una pedana sotto i piedi. La posizione litotomica è molto rischiosa invece, chiamata anche posizione ginecologica, in cui due operatori devono sollevare le gambe insieme e devo stare attento soprattutto a lesioni dell'anca e del ginocchio, ma anche a quelli del nervo safeno, peroneale e femoro cutaneo. La posizione invece laterale è quella che si fa soprattutto negli interventi di rene e su rene. La gamba deve essere flessa a livello del ginocchio e del ginocchio e dell'anca e la coscia deve essere allungata con cuscini tra le due ginocchia e sotto i piedi. Inoltre ci devono essere dei supporti per non far cadere il paziente e dei supporti per le braccia, la colonna e il collo. Mentre la posizione prona viene fatta soprattutto negli interventi sacro-coccigiei, come la fistula perianale, e devo stare anche attento alla mammella nelle donne per la formazione di amatomi e per i genitali negli uomini. La posizione da seduto si fa invece per interventi di otorino, laringoiatria e di neurochirurgia. E' importante poi fare un corretto applicazione di placca e di elettrobisturi. Abbiamo gli elettrobisturi monopolari e gli elettrobisturi bipolari. Quelli monopolari presentano un generatore ad alta frequenza, una lama collegata a un generatore che dà gli tessuti, che è l'elettrodo attivo a elevata densità di corrente, e una piastra che si posa sulla cute del paziente previa a tricotomia fatta per bene, perché altrimenti il paziente prenderà delle scosse, per esempio. La piastra è un elettrodo a bassa densità, neutro, e serve per disperdere e per dissipare la corrente a terra. Metteremo l'elettrodo positivo nel punto in cui dove si deve agire a fare l'intervento, l'elettrodo neutro invece è adeso alla cute del paziente, per esempio su una coscia. Quindi, ovviamente, è importante anche tener conto che esiste un tipo di elettrobisturi bipolare, che sono delle pinze con un elettrodo positivo e uno negativo. non c'è un rischio di gestione per quanto riguarda la piastra, anche perché in questo caso noi faremo soprattutto una chirurgia di tipo coagulativa. Si usa soprattutto nella chirurgia della tiroide, quando devo fare la coagulazione vicino al nervo ricorrente. Se c'è un pacemaker, cosa vado a fare? Vado a riprogrammare a livello dei sensori e posso utilizzare comunque il bipolare. Nel monopolare devo fare la riprogrammazione. Se invece ci sono dei fibrillatori, devo disattivare delle finestre terapeutiche utili per situazioni di tachicardia. Quindi, una volta fatto l'intervento, dobbiamo stare attenti alle lesioni. Possiamo avere soprattutto le lesioni nervose da malposizionamento. La neuroaparassia, che è un disturbo transitorio che coinvolge la mielina e tendenzialmente si risolve da solo. L'assono o l'assotmesi, che sarebbe il danno da interruzione assonale e guania mielinica, con degenerazione valeriana. Il perinevrio e l'epinevrio vengono conservati, quindi non c'è una lesione a questi livelli e fanno da guida per la rigenerazione assonale. La neurotmesi, invece, è una lesione totale del nervo o del perinevrio e necessita della chirurgia e quindi di solito non c'è una rigenerazione. Sono importanti le lesioni perché possiamo avere lesioni a livello del plesso brachiale, quindi queste vengono stirate perché il cavo, per esempio, viene messo contraterralmente, c'è un'abduzione eccessiva delle braccia, oltre i 90 gradi, per esempio, oppure vengono messe dei supporti dietro le spalle che comprimono il nervo contro la clavicola. Ci può essere una lesione del nervo mediano con una condizione chiamata paralisi a mano chiusa, la lesione del nervo lunare, invece paralisi a mano benedicente, lesioni lombosacrali, malposizionamento in posizione diodotomica, lesioni del nervo peroneale perché c'è l'asta reggigamba sulla testa della tibia, o ancora lesioni del nervo sapeno perché l'asta reggigamba è sul collo della tibia e il nervo femorocutaneo per un'eccessiva flessione della gamba. Ovviamente poi importante sarà il post-operatorio, quindi devo valutare soprattutto lo stato di coscienza, la posizione del paziente, la fisiologia, la diuresi, il sito chirurgico, e fare ovviamente valutare tutti i farmaci, le complicanze che ci possono essere, le terapie, e fare soprattutto ovviamente degli accessi venosi centrali, periferici, l'ossigenoterapia nell'immediato post-operatorio, intendo cateteri, sondini nasocastrici e drenaggi. I drenaggi a cosa servono? Servono soprattutto a rimuovere, per esempio dall'area chirurgica, dei versamenti ematici o linfatici, e drenare le raccolte, oppure possono fungere da spia per tecessenze, emorragia o materiale burlento. I tipi di drenaggi sono quelli tubulari, in redon, che sono i più comuni, quelli capillari, con garza e filo di seta, e per drenare il viscere, quelli laminari che si mettono sotto cute. Questi sono gli strumenti che vengono utilizzati, il numero uno sarebbe praticamente un tubicino del drenaggio, il due sarebbe la lama, il tre sarebbe un altro tubicino che poi verrà collegato a un contenitore chiamato reservoir. Per fare il drenaggio cosa faccio? Con la lama vado a inserire questo drenaggio a livello della ferita, dall'interno della ferita verso l'esterno, quindi fuoriesce dalla cute. Faccio scorrere il tubo fino a delle linee nere che ci servono soprattutto per noi come punto di riferimento e anche perché questa estremità più opaca serve per riconoscere col drenaggio durante l'RX. Quindi cosa faccio? Una volta che ho messo la lama, quindi vado dall'interno all'esterno della ferita, faccio scorrere il tubo fino a queste linee nere, taglio la parte in eccesso e le linee nere saranno da punto di riferimento. C'è una parte a monte che si troverà all'interno della ferita, quindi, e una parte invece a valle delle linee nere che sarà fuori dalla ferita. Fisso il drenaggio con la seta e faccio un nodo attorno al drenaggio e devo stare attento che non sia troppo stretto. Questo mi permette di fissare il drenaggio alla cute. Dopodiché faccio la medicazione. La medicazione del drenaggio si può fare con una garza sterile con betadine, sia tubicino che garza. Vedo il reservoir, vedo quanto ha drenato e poi vado a mettere il cerotto, solitamente ha dettagli già preimpostati, possiamo dire, o lo vado a fare io, il taglio del cerotto, e successivamente ci sarà la rimozione del drenaggio quando cessa la sua funzione oppure quando c'è un'infezione o un'irritazione. Le complicanze sono l'infezione, la deiescenza, la dislocazione e l'ostruzione, ma anche ci può essere il linfocele, che è una raccolta di linfa attorno al rene. È importante poi prendersi cura la disinfezione della ferita chirurgica. Questa viene fatta circa teoricamente 24-48 ore dopo l'intervento, una volta al giorno o più volte al giorno se c'è un'infezione. la ferita guarisce in prima intenzione se i margini sono a stretto contatto, mentre in seconda intenzione se i margini non sono vicini con perdite di sostanza. In questo caso faccio i drenaggi. Le complicanze invece sono le infezioni, l'ematoma, la presenza di sero di linfa e la deiescenza. le infezioni soprattutto da saprofiti, quindi l'ematoma e ovviamente se abbiamo un'infezione da saprofiti vado a somministrare gli antibiotici. Mentre nell'ematoma cosa faccio? Vado a vedere che si vengono a creare questi in zone di incisione o zone di clivi e si fanno i drenaggi. Siero linfa per l'infezione o l'infectomia e faccio il drenaggio conservativo deiescenza invece perché cede la sudura a causa di ematomio e sieromi ed è trattato con il drenaggio o la chirurgia. Le complicanze post-operatorie invece possono essere l'emorragia, l'infarto del mio cardio guto, la TVP quindi la trombosi venosa profonda l'emboliva polmonare, polmonidi o ilio paralitico.